E' l'ultimo atto di una stagione vissuta da protagonisti a San Benedetto del Tronto, la Domus Bet TV Catania Beach Soccer va a caccia di un trofeo, il più importante che la riporterebbe sei anni dopo nuovamente sul tetto d'Italia. Sesta finale consecutiva in campo nazionale, la trentaduesima di una storia infinita per la società più titolata del beach soccer italiano. Cammino estremamente duro come da pronostico per il roster di Fabrizio Santos che arriva a giocarsi la finale tricolore avendo superato ai quarti. La San Benedettese è in semifinale il Catania FC per un derby da batticuore, antagonista a Scudetto e l'Energy Pisa di Matteo Marrucci, vincitrice della regular season e già finalista per due anni consecutivi all'Euro Winners Cup, squadra tra le più quadrate e vincenti degli ultimi tre anni. Fabrizio Santos non può contare sugli squalificati Marco Giordani e Fabio Denisi, passiamo al racconto della gara con il primo tiro portato da Rafael Padiglia fuori di poco alla destra di Casapieri. L'estremo difensore pisano deve ricorrere al suo primo intervento, al terzo allungando sopra la traversa la palombella di Fred. Il primo contrattacco nero-azzurro si registra al quarto con la conclusione velenosa di Hulk su cui Padiglia si fa trovare pronto deviando in corner. Al settimo primo assolo di Be Martins e nuovo intervento di Casapieri che insieme al palo negano l'1-0 rosazzurro. Pisa che cresce nel finale di primo tempo decisivi gli interventi del portiere brasiliano sui tiri di Casapieri e Paolinho. La prima frazione di gioco si chiude sul punteggio di 0-0, gara che decollerà definitivamente nel secondo tempo con una domus bet vicina al gol dopo appena 20 secondi grazie alla conclusione di Josep su cui Casapieri si distende in calcio d'angolo. Come un tuono senza preavviso arriva alla rete del Pisa, trascorsi 48 secondi, intervento ruvido di Fred ammonito nella circostanza su Hulk che da posizione centrale favorevole batte Rafa Padiglia per la rete che sblocca la partita. Il Catania rischia di sfilacciarsi e al secondo minuto si presta al contropiede pisano che viene fallito però da Hulk con una conclusione troppo angolata. La risposta non tarda ad arrivare ed è merito di Lucas Ponzetti che in piena area di rigore tenta la coordinazione che gli viene però ostacolata da Paolinho e calcio di rigore trasformato, forte e centrale, nessuna possibilità per Casapieri di agguantare la sfera. È lì che il Catania alza la testa e con Ben Martins passa in vantaggio fondamentale il recupero a palla del portoghese e bordata da fuori anche deviata da Paolinho. Casapieri battuto due volte in poco più di 30 secondi. Pisa che però si scuote con la forza esplosiva di Hulk a cui basta poco, anche mezzo metro per caricare la dinamite dal suo piede. Al quarto sono le prove col gol, alto di un nulla. Al sesto Edson Hulk riceve da Casapieri e da posizione defilata sulla destra lascia di sasso. In un colpo solo, Catarino e Padiglia, palla che va sotto la traversa e che riporta il match sui binari dell'equilibrio. Non fa una piega il Catania che si scuote con Ponzetti, attento Casapieri a deviare il pallone in angolo. È sicuramente Hulk sempre più incredibile, già capocannoniere del torneo, a quota 23 gol ad avvincinarsi alla rete del controsorpasso con la traversa amica alleata rossazzurra. Parità che si schioda però al dodicesimo. Con la giocata da fuoriclasse di Raffael Padiglia che ha tempo e spazio per palleggiare e calciare. Alla sinistra di Casapieri, stavolta immobile, 3 a 2. Domus Bet TV, Catane Beach Soccer, avanti a 12 minuti dalla fine. Ancora un'eternità. Terza ed ultima frazione di gioco decisiva per l'assegnazione del titolo di Campioni d'Italia. Lo sa bene Raffa Padiglia che al primo minuto fa un intervento straordinario in volo d'Angelo su Noel Hott. Gara che svolta definitivamente al quarto il piazzato di Catarino. Si insacca alla sinistra di Casapieri e la firma di Catarino sempre in gol in questa Final Eight per il gol del 4-2 doppio vantaggio Catania che deve però soffrire il ritorno del Pisa al quinto. Ingenuità di Capitan Fred che entra scomposto su Casapieri. Secondo giallo per il numero 20 ross-azzurro, inferiorità numerica che dura però solo un minuto perché Hott su assist di Simone Marinai di Mezza. Lo svantaggio fa 4 a 3 e riporta in partita il Pisa. E uno degli ultimi brividi, l'ultimo, è sulla sirena con l'assist di Casapieri per Hulk che sbetta altissimo sopra Padiglia. Senza fallo la palla va sulla traversa e l'ultimo frame di questo campionato non è più un sogno. La Domus Bet TV, Catania Beach Soccer è campione d'Italia per la terza volta nella sua storia. Titolo che ritorna ai piedi del Vulcano sei anni dopo. E' una gioia incontenibile, strameritata, che arriva a sugello di una stagione che ha già consacrato i ross-azzurri campioni in Supercoppa e ad un passo da uno storico triplete. Si chiude qui il racconto di una finale che è già storia e di un'annata da ricordare negli annali per la Catania rossa-azzurra che vince e sale nuovamente sul tetto d'Italia.